Dai banchi di scuola sino dentro ad una delle aziende d'eccellenza della provincia di Pistoia è l'esperienza fatta da un gruppo di studenti degli indirizzi elettronica ed informatica dell'Istituto Marchi Forti di Pescia per i quali si sono aperte le porte dell'ECM nella sua sede di Cantagrillo nel comune di Serravalle Pistoiese. Gli studenti, primi in occasione di un Open Day che coinvolgerà prossimamente anche altre scuole e l'università, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con il personale dell'azienda specializzata nel settore del segnalamento ferroviario tra le più importanti al mondo e da alcuni anni entrata a fa parte del colosso mondiale statunitense Caterpillar. Questo è un giorno molto importante per noi, è il primo giorno di una serie di iniziative in cui invitiamo i ragazzi degli istituti tecnici a vedere che cosa facciamo qua dentro. Vedere cosa facciamo qua dentro perché noi siamo un'azienda molto tecnologica, diciamo al top della tecnologia quindi è un'opportunità per questi ragazzi per vedere come quello che stanno studiando può essere utilizzato e messo in pratica. Quindi stiamo un'azienda che stiamo crescendo, stiamo assumendo molte persone, siamo cresciuti molto da quando nel 2018 siamo stati acquisiti da Caterpillar quindi penso che sia un'opportunità molto importante per noi sicuramente ma anche per questi ragazzi. Per i ragazzi è un'esperienza nuova dopo due anni che sono stati praticamente chiusi in casa con questo Covid quindi per loro è una grossa opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro, una collaborazione tra scuola e azienda che permetterà ai ragazzi di intraprendere un percorso, una formazione più specifica e quindi per loro è una grossa opportunità oggi. Oggi che cos'è ECM? Oggi ECM è una realtà che sta diventando nel mondo Caterpillar un centro di eccellenza mondiale per quello che riguarda il segnalamento che il segnalamento che voglio ricordare è quella tecnologia che permette ai passeggeri di viaggiare in modo sicuro. Stiamo crescendo all'estero, in questi quattro anni abbiamo acquisito importanti contratti all'estero sia nei Balcani, in Albania, Thailandia, in Africa quindi diciamo che stiamo diventando una realtà che ha un profilo internazionale importante. Nel futuro cosa c'è? Nel futuro c'è la crescita, c'è la possibilità di essere una realtà nel territorio che attrae talenti e che far crescere le persone.